Una vita da mediano Una vita da mediano con i compiti precisi Una vita da mediano con i compiti precisi In una gara che ha visto l'incontrista e iboriano assoluto protagonista La straripante prestanza fisica di Giussuf Kone ancora non si associa ad una uguale efficacia tecnica Ma non è a lui che vengono richieste le giocate di Fino A lui tocca recuperare palloni su palloni A centro campo e davanti la difesa Sono altri gli uomini preposti ad impostare l'azione La straripante prestanza fisica di Giussuf Kone ancora non si associa ad una uomini La straripante prestanza fisica di Giussuf Kone ancora non si associa ad una uomini La straripante prestanza fisica di Giussuf Kone ancora non si associa ad una uomini La straripante prestanza fisica di Giussuf Kone ancora non si associa ad una uomini Grazie a tutti 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 Grazie a tutti